Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo filmato per il Mollou Christmas giorno 4 vi propongo cosa mangio in un giorno partiamo dalla colazione il tè che non mi sto a dilungare sapete non manca mai con vicino le gocciole wild con cioccolato fondente e sono integrali essendo il 4 un numero pari sapete i pari toccano a me per aprire il calendario dell'avvento quanto la casina che tra poco vedremo cosa succederà vediamo cosa ci riserva il calendario dell'avvento di Ikea apriamo la casellina e vediamo quale cioccolatino vediamo vediamo prima di tutto mi ho metto sulla casella guardate il carino e vicino un cioccolatino che scopriamo girando il calendario dell'avvento che cos'è? pralina al cocco spettacolo il calendario dell'avvento di Ikea è il momento di aprire la casina di oggi la numero 4 che toccherà a moi vediamola qui non c'è ok qui neanche vediamo dove è stata messa non mi ricordo perché l'ho messa vedete un po' sparsa non è che hanno un senso logico 17 eccola qui la numero 4 ma pensate dove l'ho messa pensate oppele non riesco a prenderla e voilà vediamo cosa si il mio telefono è sottofondo non ci fate caso eh vediamo cosa mi riserverà la casetta numero 4 che devo aprire io oggi e vediamo cosa mi riserverà il fogliettino che mi ha scritto selvi vediamo perazzi e beh giustamente perazzi casina che poi anche questa qui verrà appiattita e messa insieme alle altre rimaste cioè più che rimaste belle che fatte apriamo mangia qualcosa di arancione e se non lo trovi mangerai la mela allora selvi ha scritto questo perché aveva qualcosa di arancione adesso in casa sicuramente si trova penso vedremo mangerai la mela una sorta di punizione per modo di dire perché sa perfettamente che io la mela sarò strana ai vostri occhi perché probabilmente a tanti di voi piacerà ma io con la mela poco ci faccio ok andiamo alla ricerca di qualcosa di arancione in casa e lo vedrete nel continuo di questo what it in a day neanche a farlo apposta si abbina fatalità al video che sto girando cioè proprio connessione perfetta ok e non vedrete selvi perché è uscita per delle commissioni andando di qua e di là per casa il cibo arancione l'ho trovato e come il mandarino che mi piace tantissimo ha un sapore buonissimo e ragazzi la mela ciao ciao è solo un ricordo lo sono sbucciato ho levato tutto quanto per bene missione compiuta e mi gusto il mio mandarino quanto era buono succoso saporito vabbè in questo periodo sono fantastici direi che la mia prova è bella che superata assolutamente mamma mia buonissimo a dir poco fogliettina alla mano e come da tradizione quando l'azione viene eseguita gli facciamo ciao ciao e strappiamo il foglietto anche questa è andata definitivamente mi sono voluta tenere leggera appositamente perché per cena poi vedrete ci ho dato sotto ma ne vale la pena tre fette wasa con sopra questa filadelfia e peperoni grigliati una scoperta dell'ultimo periodo per quanto mi riguarda spettacolare veramente una cosa eccezionale a volte quei rari casi in cui non mi sento di far merenda perché non ne ho bisogno e questo è uno di quei casi e quindi non vedrete la merenda passiamo direttamente alla cena e adesso capite perché mi sono tenuta leggera a pranzo mezzi paccheri allo scoglio adoro da impazzire se cena un infuso dei miei bello caldo avvolgente ci sta benissimo sogni d'oro drenante con betulla e ananas e oltretutto questo infuso se non sbaglio ve l'ho consigliato proposto insieme a tanti altri nell'ultimo video tematiche tè di sana infusi che vi lascio la scheda informativa qui sopra in alto destra e sinistra non mi ricordo mai dove compare ragazzi è veramente tutto ci vediamo domani con Mululu Christmas Day 5 20 e 30 sempre qui per voi e con voi a domani ciao ciao